Musica L'Ucraina giornata di scontri con il raid di droni di Kiev su Sebastopol e i bombardamenti russi su Melitopol e il segretario dell'ONU Gutierrez chiude il suo giro nella zona di guerra a Istanbul ma il centro di controllo per l'uscita del grano ucraino snodo della crisi alimentare mondiale. In questa seconda metà di agosto si avvicina alla fine delle vacanze estivi arriva il primo controeso dopo che le criticità in autostrada traffico intenso ma alla fine scorrevole per ricordare la sicurezza e la guida la Polstrada organizza in alcune aree di servizio esperienze e di educazione stradale. Si alzano i toni della campagna elettorale PD alle prese con il rattoppo delle liste dopo alcuni passi indietro dai partiti intanto pillole di programma elettorale per tenere alta l'attenzione mentre le segreterie limano le ultime liste. Nonostante le piogge dell'ultime ore la siccità affligge ancora l'Europa ma dai fiumi e dai laghi in secca emergono pezzi di storia dimenticata. Buonasera dal TG2000 subito in Ucraina con l'attacco di Chieve dal comando della flotta russa in Crimea a Sebastopoli utilizzando dei droni mentre la Russia bombarda Melitopol. Vito Dettore. La controffensiva ucraina in Crimea non si ferma a Sebastopoli è scattata la massima allerta dopo che un drone è stato abbattuto sopra il quartier generale della flotta russa del Mar Nero. Si tratta del secondo assalto di questo tipo contro il quartier generale della flotta russa in meno di un mese. Secondo le informazioni disponibili, scrive l'agenzia Unian, parte della flotta russa del Mar Nero è stata ritirata dalla baia di Sebastopoli nelle ultime ore. La pace in Ucraina è ancora lontanissima. Dall'inizio della guerra 45.000 soldati russi hanno perso la vita e sempre restando ai numeri ufficiali, dal 24 febbraio più di mille bambini ucraini sono stati colpiti durante i bombardamenti, 363 sono morti. La centrale nucleare di Saporiscia tiene col fiato sospeso la comunità internazionale. Oggi Mosca accusa Kiev di aver utilizzato sostanze chimiche contro l'esercito russo proprio nella regione di Saporiscia. Alcuni soldati in servizio nell'area ora sarebbero ricoverati con sintomi di forte avvelenamento accusere spinte da Kiev che le ha definite propaganda russa. E l'ONU segue la via diplomatica per tentare di risolvere la crisi tra Russia ed Ucraina. Oggi il segretario delle Nazioni Unite Guterres è volato da Odessa a Istanbul in Turchia al centro di due giorni di visita all'esportazione del grano ucraino. Caterina Dall'Olio. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres oggi è stato tutto il giorno a Istanbul per visitare il centro istituito nella città turca per coordinare l'esportazione di cereali ucraini attraverso corridoi sicuri nel Mar Nero. L'appello per sbloccare le esportazioni di alimenti e fertilizzanti russi che non sono soggetti a sanzioni arriva subito. Lo rende noto un comunicato delle Nazioni Unite che cita il discorso ottenuto dal segretario. Chiari Guterres invece aveva fatto visita ad Odessa dove aveva chiesto a Mosca di non staccare la centrale nucleare di Zaporizia dalla rete ucraina dopo l'allarme di Kiev. In questo senso ovviamente l'elettricità di Zaporizia è ucraina. Questo principio deve essere pienamente rispettato ha fermato il segretario generale. Ore di preoccupazione in Nicaragua dopo l'arresto di Monsignor Rolando Alvarez Vescovo di Matagalpa poco fa l'appello della conferenza episcopale italiana affinché nel paese sia garantita la libertà di culto e di opinione non solo agli esponenti della Chiesa Cattolica ma a tutti i cittadini. Rita Salermo. Dopo la vicenda del Vescovo di Matagalpa Monsignor Rolando Alvarez prelevato a forza dalla curia diocesana insieme ad otto persone tra laici e sacerdoti dove già si trovava i domiciliari dal 4 agosto scorso aumentano di ora in ora gli attestati di solidarietà al Presule e alla Chiesa nicaragüense nel mirino da mesi del regime di Ortega dopo la Santa Sede che ha espresso preoccupazioni invitando a trovare una via d'intesa e di oggi la lettera del Presidente della CIE Cardinale Zuppi che a nome della Chiesa Italiana esprime vicinanza e chiede ai responsabili politici di garantire la libertà di culto e di opinione a tutti non soltanto agli esponenti della Chiesa Cattolica ed ammissi che il governo prende di mira diversi rappresentanti della Chiesa Cattolica accusandoli di incitamento alla violenza e di connivenza con gli oppositori al momento il vescovo di Matagalpa Alvarez si trova nella casa di famiglia Managua dove ha potuto incontrare il Cardinale Brenes che lo ha trovato in buone condizioni fisiche in un comunicato il porporato ha espresso l'auspicio che si è trovata un'intesa basata sul rispetto reciproco in Somalia a Mogadiscio il bilancio dell'attacco giadista di ieri sera l'hotel Hayat è di almeno 30 morti e 40 feriti secondo alcuni testimoni per tutto il pomeriggio si sono sentiti spari tra le forze di sicurezza e gli ultimi uomini di Ashabab armati asserragliati all'ultimo piano dell'albergo tra i feriti molti funzionari di polizia che si trovavano nella struttura al momento delle esplosioni e restiamo all'estero con la Grecia che oggi esce dalla sorveglianza rafforzata dell'Unione Europea il servizio di Leonardo Possati è il 27 ottobre del 2011 quando il primo ministro Papa Andreu annuncia ai greci l'accordo raggiunto con l'Unione Europea il Fondo Monetario Internazionale la Banca Centrale Europea la cosiddetta Troica un accordo lacrime e sangue che però salverà il paese dal default miliardi di euro per dare ossigeno alle finanze di Atene dopo i negoziati estenuanti con i partner europei e i banchieri Papa Andreu ha dovuto accettare che a gestire questi soldi siano altri e non il suo governo diversi paesi dell'Unione guidati da Berlino hanno infatti posto questa condizione per l'attivazione del fondo salva stati non fidandosi più delle promesse e degli impegni assunti da Atene del resto lo stesso Papa Andreu ha dovuto ammettere e denunciare pubblicamente quanto fatto da precedenti governi greci ovvero la falsificazione dei dati di bilancio dei conti pubblici per permettere al paese di entrare nell'euro per i greci iniziano anni terribili fatti di tasse esorbitanti e tagli a salari e pensioni il paese è una bomba sociale le manifestazioni e gli scontri con la polizia si susseguono ci vorranno anni per riportare equilibrio e allentare le misure adottate nel 2018 termina il programma di aiuti internazionali ed inizia la sorveglianza rafforzata ovvero la fase di controllo da parte di Bruxelles sui conti pubblici di Atene fase terminata ufficialmente oggi da questa mattina infatti i greci come ha ricordato in un videomessaggio il primo ministro Mitsotakis tornano ad essere padroni delle loro scelte e del loro destino in Italia ora con il controesodo di agosto e le code ai caselli di chi inizia a ritornare dalle vacanze poche però le criticità in autostrada traffico intenso ma scorrevole con la polizia stradale che invita sempre alla prudenza Erika Calvani è tempo di rientrare per gran parte degli italiani agosto volge al termine e per molti le vacanze stanno finendo è iniziato il primo e fine settimana di controesodo da Bollino Rosso con traffico scorrevole ma in aumento sulle principali direttrici è iniziato appieno il controesodo degli italiani dalle località di mare verso le grandi città quindi raccomandiamo assolutamente massima prudenza alla guida di fare le dovute esosse e di avere pazienza perché purtroppo gli italiani che viaggiano sono molti il flusso di rientro in direzione nord è verso i grandi centri urbani ma anche verso le località di veleggiatura per le ultime partenze la tappa vasto del Jova Beach Party contribuisce ad aumentare la circolazione nei pressi di Chieti oggi ralentamenti sull'autostrada del Brennero e le autorità segnalano fino ad un'ora di attesa per l'imbarco al porto di Villa San Giovanni in Calabria la maggiore concentrazione di traffico sull'autostrada però è prevista dal pomeriggio di domani in concomitanza con i rientri del fine settimana il Consiglio è sempre la guida sicura l'Unione fa la sicurezza è la campagna di educazione stradale di sensibilizzazione alla guida prudente portata avanti dalla Polizia di Stato insieme ad Autostrade per l'Italia e Dampas in corrispondenza delle aree di servizio maggiormente trafficate l'iniziativa prevede intrattenimenti con lo scopo di educare sui comportamenti da tenere alla guida i viaggiatori possono rendersi conto dei rischi di guidare in stato di ebbrezza possono percorrere un breve itinerario con appositi occhiali che simulano la condizione di chi si pone alla guida dopo aver assunto droghe o d'alcol con un tasso di 0,5 la maggior parte ovviamente non riesce a concludere il percorso senza aver inciampato in un ostacolo o aver spostato un birillo e da questo tutti quanti si rendono assolutamente conto dell'incapacità e del pericolo di guidare di porsi alla guida in uno stato di alterazione non passa inosservata la Lamborghini parcheggiata una delle due in dotazione alla polizia di stato per effettuare i trasporti veloci di plasma ed organi è stato odomato l'incendio di vampato ieri sera intorno alle 21 al Iperi la più grande delle isole Oli e le fiamme alimentate dal forte vento hanno divorato almeno 5 ettari di macchia mediterranea in località Santa Margherita seminando paura tra turisti e residenti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco il personale della forestale e i volontari della protezione civile tornano intanto il bel tempo e temperature gradevoli in tutto il paese ma inizia anche la conta dei danni del maltempo trombe d'aria tempeste grandinate degli ultimi tre giorni lasciano una lunga scia di danni milionari ad aziende famiglie sfollate la regione emilia romagna una di quelle più colpite ha attivato una piattaforma online per raccogliere le segnalazioni dei danni agricoli nei territori emiliano romagnoli segnalazioni importanti perché forniscono alla regione dati certi per quantificare i danni coordinare una ricognizione precisa sul territorio e chiedere i dennizi al ministero delle politiche agricole e alimentari prosegue la corsa dei partiti verso le elezioni del 25 settembre oggi è la giornata delle accuse tra Giorgia Melone di Enrico Letta ma anche delle tensioni all'interno di Forza Italia Francesco De Remigis al termine di una giornata movimentata il segretario Dem prova a rattoppare la tela PD che da Frosinone a Potenza ha visto sgretolarsi due candidature in meno di 24 ore quella di Francesco De Angelis presente alla cena finita in rissa verbale nel Lazio con tanto di minacce riprese da un video e quella del 29enne Raffaele La Regina che abbandona la lista lucana dopo il caso dei tweet in cui metteva in dubbio l'esistenza dello stato di Israele Letta ha chiesto dunque a Muroni ex di Legambiente di candidarsi all'uninominale a Roma e ha già convinto l'ex ministro Amendola a correre al posto di La Regina in Basilicata ecco però che salta fuori un'altra giovane capolista PD Rachele Scarpa che sui social dice chi si ostina a parlare di diritto di Israele a difendersi si rifiuta di cogliere la gravità e la complessità della situazione il centrodestra parla di attacchi deliranti al diritto di Israele a difendersi e Silvio Berlusconi si rivolge a quei 23 milioni di italiani che non sono andati a votare chiedendo di non cedere all'autolesionismo della non scelta il cavaliere invita poi tutti i politici a concentrarsi subito su rigassificatori termovalorizzatori energie rinnovabili e nucleare pulito anziché discutere fino alla fine di liste e candidature forse Italia è alla stretta finale ma con una grana non da poco esplosa in Basilicata per la candidatura paracadutata della presidente del senato Casellati Salvini parla di inverno difficile per i costi dell'energia e mette in programma l'abbassamento dell'IVA sul pellet nel Movimento 5 Stelle c'è l'affondo dell'ex procuratore Cafiero Derao che rivendica la lotta alle mafie ho scelto di candidarmi per il contrasto a un certo mondo politico opaco in cui entra chi vuole servirsi delle istituzioni anziché servirle dice chiaro il riferimento alla vicenda DEM di Frosinone su cui la procura a breve deciderà se aprire o meno un'inchiesta Conte invita intanto Letta a uscire dalla nostalgia di Draghi possiamo anche illuderci che con l'ex numero uno della BCE sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno una risposta a quella dell'ex premier all'attacco del segretario PD che aveva accusato Conte di aver fatto cadere il governo mentre stava per realizzare la promessa di una mensilità di stipendio in più contro il caro vita Negli Stati Uniti vaccine e cure per il Covid non saranno più gratuiti dopo l'emergenza degli ultimi due anni il governo federale si appresta a fare un passo indietro lasciando di fatto agli americani il conto da pagare una transizione che presenta molte difficoltà in primis l'equità nella distribuzione dei vaccini e delle cure soprattutto per coloro che non hanno l'assicurazione sanitaria per definire la nuova strategia la Casa Bianca ha convocato per il 30 agosto un incontro con tutti i protagonisti del settore con l'obiettivo di delineare le prossime mosse e assicurare che nonostante la transizione la lotta al Covid non subisca alcuna battuta dal resto in Italia intanto l'ultima ondata della pandemia continua ad arretrare sono 24.394 nuovi casi nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute 88 i decessi e continua il calo dei posti letto occupati sia in terapia intensiva che in area medica aumenta vertiginosamente il costo del carrello della spesa secondo i dati Istat Trentino e Lombardia sono le regioni più care Puglia e Molise quelle dove gli aumenti sono stati un po' più contenuti Paola Gatti 35 milioni di italiani in vacanza al 4% in più rispetto allo scorso anno nonostante si faccia molta fatica ad arrivare a fine mese per colpa dell'inflazione che è schizzata alle stelle lo riporta Coldiretti la stangata investe in particolare il carrello della spesa alimentare anche se la geografia dei prezzi cambia da nord a sud Milano si conferma la città più cara mentre Napoli è la più economica a ogni famiglia in ogni caso gli aumenti su cibo e bevande costeranno 570 euro in più nel 2022 adesso ho speso 98 euro con due bustini è proprio esagerato e ha dovuto fare rinunce? certe cose sì l'ho lasciata a verde che devo fare? lavoriamo tutti e due sia io con mio marito e riusciamo ancora insomma permetterci insomma qualcosa una cena fuori una piccola vacanza con lo scenario attuale tra il taglio dei raccolti per la siccità prima e il maltempo dopo e l'aumento dei costi energetici a causa della guerra in Ucraina non c'è da stare sereni occorre fare qualche sacrificio per concedersi ogni tanto una vacanza o andare a cena fuori magari rinunciando ai prodotti che più hanno subito i rincari la carne il pesce la frutta e anche facendo lo slalom tra le corsie dei supermercati a caccia dell'offerta migliore beh si fa attenzione ai prezzi quando ci sono le offerte si fa la spesa e qualcosa bisogna rinunciare anche emergono nuovi elementi dall'inchiesta sull'omicidio del panettiere 43 un ucciso a Giffoni Vallepiana dalla moglie Monica Milita dal figlio ventenne Massimiliano e da un altro figlio di 15 anni i carabinieri hanno recuperato e sequestrato i tre coltelli utilizzati per uccidere palmieri le armi erano state sotterrate in un giardino che si trova poco distante dall'abitazione di via Marano secondo la ricostruzione degli investigatori l'omicidio è avvenuto nel pomeriggio del 29 luglio al culmine di una lite familiare e in Spagna un gruppo di ragazze toscane in vacanza hanno denunciato di essere state aggredite prima da un gruppo di ragazzi e poi dalla polizia all'uscita di una discoteca di Valencia i poliziotti invece di soccorrere le ragazze le avrebbero trascinate sulla spiaggia per poi picchiarle tanto da dover richiedere le cure di un ospedale torniamo in Italia una guerra scellerata provocata dall'aggressione della federazione russia all'ucraina scuote l'identità dell'Europa così il presidente della repubblica Sergio Mattarella nel messaggio per l'apertura dei lavori del meeting di Rimini iniziato oggi Luciano Piscaglia in questa delicata fase storica resa drammatica dal conflitto e dall'irrisolta pandemia come sta cambiando l'Europa quali saranno i principali dossier al centro delle politiche dell'Unione nei prossimi anni quale futuro ci aspetta sono i temi affrontati nel secondo importante appuntamento del meeting 2022 intitolato proprio Europa e futuro ospite d'onore il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni che si è soffermato su quelle che sono le principali sfide che l'Europa deve affrontare e vincere per costruire il proprio futuro la principale sfida credo sia quella di essere protagonista e non spettatrice del mondo in cui ci troviamo un mondo carico di incertezze e in cui assistiamo al rischio di un ritorno della guerra nel nostro continente assistiamo alla sfida immane della transizione climatica vediamo diverse democrazie vivere dei limiti ai livelli di libertà che dentro questi sistemi democratici sono accettati sfide globali che hanno bisogno di un grande soggetto come l'Europa e domani è atteso al meeting il cardinale Matteo Zuppi il presidente della conferenza episcopale italiana celebrerà la messa nei padiglioni della fiera e poi svolgerà la relazione principale sul tema di questa edizione del meeting una passione per l'uomo sport impresa Italia campionati europei di ginnastica artistica di Monaco di Baviera la nazionale italiana maschile conquista una storica medaglia d'argento nella gara a squadre e cinque ginnasti si sono classificati secondi alle spalle della Gran Bretagna e prima della Turchia torniamo in Europa dove la siccità pur creando enormi problemi alimentari ed economici sta portando però alla luce pezzi di storia rimasta sott'acqua per secoli Beatrice Bossi la storia che torna alla luce sorprende dopo decenni o millenni addirittura trascorsi sotto l'acqua unica custode e testimone degli eventi l'Europa scopre l'altra faccia della siccità quella che lascia bocca aperta e delizia gli archeologi così i militari fanno brillare una bomba della seconda guerra mondiale scoperta dai pescatori di Borgo Virgilio in provincia di Mantua mentre si arenavano sul Po nell'anno più arido degli ultimi 70 anni la secca del Danubio invece in Serbia ha fatto riscoprire 20 navi tedesche affondate durante l'avanzata russa del 44 mezzi militari e munizioni ancora intatte per anni sfiorati dai traghetti che navigano in questo tratto di fiume al confine con la Romania in Spagna la siccità ha fatto emergere completamente un sito preistorico si chiama il Dolmen di Guadalperal ma è famoso come la Stone Age spagnola è composto da una dozzina di pietre megalitiche che risalgono al 5000 a.C. si trova nella provincia centrale di Casares dove il livello dei fiumi è sceso del 70% in Germania invece il Reno ha riconsegnato alla storia contemporanea un monito le pietre della fame scolpite durante anni di siccità e carestia un cattivo auspicio sul futuro che con il cambiamento climatico adesso rischia di tornare in realtà ed è tutto per oggi grazie per averci seguito e buona serata a tutti grazie per averci seguito